Oggi siamo a manifestare sotto la Prefettura di Terni per le nostre ragioni, contro il caro Bullette che strangola le imprese, contro il caro Bullette che strangola le persone, i cittadini. Dietro ogni storia di imprenditoria ci sono famiglie che dedicano il loro lavoro per la nostra comunità. Basta con questo atteggiamento del Governo che ci nega qualunque forma di ristoro, vogliamo risposte certe, aiuti certi per non far più delle nostre imprese. Manifestiamo oggi per garantire non solo il nostro presente ma il futuro dei nostri figli. A Terni abbiamo bruciato, brucieremo le bollette dove nelle stesse bollette ci sono balzelli iniqui che ci mettono altri pentagli. Quindi andiamo avanti, spegneremo tutte le vetrine per oltre una settimana.